L'accoglienza al trofeo è stata fantastica come ogni anno, non essendo di casa, visto che non mi alleno in quella struttura, però mi conoscono bene, visto che mi sono allenato parecchie volte con il mister all'occo e anche con gli altri ragazzi paralimpici che si allenano lì, quindi è sempre un piacere ascoltare il pubblico che mi acclama quando lo speaker, che pur sempre è un amico, annuncia il mio nome oppure i miei successi, quindi nuotare a Portici, in particolare a Miglio d'Oro, ha sempre il suo fascino. Qua sono stato bene, ho avuto un buon riscontro cronometrico, soprattutto calcolando che sono rientrato in acqua all'8 gennaio, quindi circa un mese fa, dopo un mese di pausa, vista la sosta, per riprendermi dopo i campionati di Città del Messico.